Siamo un po' i bimbi cretini dell'Europa, devo dire, qui riprende la Grecia, riprende il Portogallo, riprende l'Irlanda, riprende la Spagna, dal punto di vista degli europei non è che abbiamo fatto granché, insomma, quindi sì, ci stanno colpolizzando, ci stanno punendo, però noi abbiamo fatto ben poco per uscire da questa gabbia ormai razziale in cui ci troviamo, di concreto purtroppo poco. Quindi guardando dall'esterno quello che sta facendo il governo Renzi, che tipo di giudizio dà a lei? Ma poveretti, fanno quello che riescono a fare, che è molto poco, il problema qui non è Renzi, il problema sono gli italiani. Grazie.